carissimi amici ben ritrovati nella mia cucina oggi prepariamo una torta rustica con ripieno di gâteau di patate una super delizia vediamo insieme gli ingredienti e come prepararla eccoci qua del pepe pane grattugiato 100 g di prosciutto cotto sale 4 patate grandi le fate bollire con le schiacciate un rotolo di pasta sfoglia 150 g di scamorzina bianca due bus tagliato a pezzetti e olio extravergine di lima amici ho smilizzato il prosciutto cotto siamo qui allora un filo di olio non uso le uova perché noi non le possiamo mangiare diamo il sale diamo una mescolata sogniamo il prosciutto cotto misturiamo bene così va un po' di pasta dell'impasto il busto la nostra scamozzina un po' di pepe e continuiamo a mescolare un rivieno bello ricco ecco qui la nostra sfoglia non sono riuscita a trovare quella rotonda la mettiamo in uno stampo vado a spenderla per bene fai un po' questi bottini andiamo a mettere dentro il nostro rivieno di patate tutto, scamozza, vitte lo spezziamo per bene e vado che meraviglia questi qua non si bruttano andiamo a fare una decorazione su mettiamola bene su tutti i lati vediamo un po' ok adesso ci vado a mettere un po' di pà ingrattato così non si asciuga e facciamo una bella cotticina un po' di pà ingrattato un po' di olio chiudiamo questi portini alti dove non c'è ce lo andiamo a mettere dove non c'è ce lo andiamo a mettere un po' di pà ingrattato mettiamo al centro mettiamo un po' ecco qua in forno 200 gradi finché non diventa bella durata io vi saluto dopo vi faccio vedere il risultato finale e spero che vi sia piaciuto a presto a presto a presto